Musica Benvenuti gentili telespettatori ad una nuova edizione del telegiornale delle Marche in onda sui canali di TVRS. L'allarme coronavirus con le ultimissime sul contagio che è ufficiale ora riguarda direttamente anche la nostra regione. A confermare il caso di positività nel corso del consueto incontro con la stampa il capodipartimento della protezione civile Angelo Borrelli. La notizia era già circolata nella tarda serata di ieri riguardo un trentenne di Vallefoglia in provincia di Pesor Urbino che lavora abitualmente a Codogno nel lodigiano primo ceppo del focolaio. Avrebbe comunque diligentemente seguito le procedure previste. Non si esauriscono nel frattempo le polemiche dopo l'ordinanza del presidente Ceriscioli che ha chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado sino al 4 marzo sospendendo anche le pubbliche manifestazioni. Ci ha sorpreso, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la decisione delle Marche è arrivata dopo che tutti avevano concordato sul protocollo suggerito questo non va bene perché se ognuno assume iniziative per conto suo si crea una confusione generale nel paese difficile da gestire. Disporre la chiusura delle scuole poi crea problemi per i genitori a solo effetti negativi e non positivi. Il governatore comunque va avanti per la sua strada e l'impugnazione dell'ordinanza non ne arresta gli effetti che proseguiranno per il periodo stabilito. Sentiamo Ceriscioli in un'intervista registrata nella tarda mattinata. È stato confermato il caso positivo ieri, lo Spalanzani ha dato conferma. Devo dire che fino ad oggi tutte le volte che è stato mandato un campione ritenuto positivo in partenza è sempre stato giudicato il nuovo positivo, quindi è chiaro che è la cosa più probabile in tutte queste evenienze, ma fin da subito si era mossa la macchina della prevenzione, c'è quella ricerca epidemiologica di tutti i percorsi che il paziente aveva fatto per mettere in quarantena e sotto osservazione le persone che stanno con lui e che ha incrociato. È evidente che il virus è arrivato sempre più vicino alle nostre case, ha maggior ragione le misure che abbiamo fatto che non devono spaventare, non servono a creare il panico, al contrario ci sono statuti più sereni. È un sacrificio che dobbiamo fare tutti perché è chiaro, non poter portare i figli a scuola, dover rinunciare alla partita di calcio, insomma sono cose che rompono la nostra quotidianità, ci impongono i sacrifici. Però lo dobbiamo fare in un momento in cui è importante perché siamo nella fase più delicata e sappiamo benissimo che c'è un meccanismo molto semplice, meno contatti si hanno, maggiore la probabilità che non si diffonda il virus. Lo facciamo per noi, lo facciamo per i soggetti fragili, che sono quelli che abbiamo visto che colpiti dal virus poi hanno esiti in fausti. Parliamo di un virus che per il 20% genera conseguenze anche importanti come la polmonite virale, bisogna non sopravvalutarlo, non sottovalutarlo. E questa grossa azione di prevenzione che è partita deve aiutarci a contenere il più possibile la diffusione del virus. L'ordinanza è questa, il governo non è riuscito a trovare quelle linee omogenee che aveva dichiarato ieri l'altro e quindi l'omegionità ce la siamo fatti da soli utilizzando gli stessi strumenti perché eravamo nelle stesse condizioni della Liguria e del Friuli. Lì il governo ha dato l'assenso, abbiamo fatto esattamente le stesse cose, da noi sembra che voglia fare opposizione, poi sarà anche una buona occasione di fronte a un giudice per stabilire se uno Stato può comportarsi in maniera differente a seconda della regione che ha di fronte. Ognuno esprime le proprie opinioni e il proprio parere, io ho ascoltato il Gores, che è un gruppo di tecnici, di persone che lavorano in sanità, ricordiamoci che l'Italia è la quarta sanità al mondo, le marche sono fra le prime in Italia, quindi siamo nei vertici assoluti nazionali e mondiali, che hanno dato tutte le indicazioni opportune per ridurre la diffusione del virus. Noi abbiamo applicato quello, quindi unendo, credo, buona politica a dei bravi tecnici che ci hanno le indicazioni. Non conosco le ragioni e le motivazioni di altre prese di posizione, quindi io sono convinto della bontà delle mie. Marche dunque blindate, scene inconsuete, in qualche caso da panico ingiustificato un po' dappertutto. La circolazione delle auto e delle persone è notevolmente diminuita, non solo a causa della chiusura delle scuole. Nei supermercati continuano a ripetersi le scene di assalto agli scaffali per i generi di prima necessità. Prende decisamente le distanze da Ceriscioli il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, che ha convocato il comitato dei sindaci dell'ambito territoriale 14. In questo periodo delicato il presidente della regione, scrive Ciarapica, non ha provveduto mai a coinvolgere i sindaci del suo territorio, non ha comunicato ai comuni alcuna disposizione da adottare, ha fatto fughi in avanti firmando ordinanze senza che ci fossero i presupposti emanati dalla protezione civile nazionale. Questa incompetenza assume una gravità inaudita di cui i marchigiani pagheranno le conseguenze. Per chissà quanto tempo appello poi al premier Conte a commissariare le marche, perché non sta né in cielo né in terra che un governo nazionale sia costretto ad impugnare per due volte un atto regionale a distanza di appena due giorni. Danni incalcolabili anche all'economia e dal turismo, con la chiusura dei musei, lo stop alle gite scolastiche. Il grido di allarme arriva anche da Pesaro, dal direttore di ConfCommercio Marche Nord, che sentiamo al microfono di Manolita Scocco. In merito all'emergenza coronavirus e alle sue ripercussioni sul tessuto economico del territorio, questa mattina è intervenuto il direttore provinciale di ConfCommercio Marche Nord, Amerigo Varotti, fortemente critico sull'ordinanza regionale che fino a mercoledì prossimo, 4 marzo, ha previsto non solo la chiusura di tutte le scuole, ma anche dei musei e l'annullamento di ogni manifestazione. Siamo molto preoccupati per quello che sta avvenendo, con tantissime cancellazioni nelle strutture ricettive di tutta la provincia, dalla costa all'entroterra, le cancellazioni delle visite nei musei, i provvedimenti adottati dalle autorità governative nazionali, quindi il fermo delle gite scolastiche, ovviamente in questo periodo è drammatico, ma ovviamente le cancellazioni che riguardano alberghi e ristoranti ci preoccupano molto, si è creata una psicosi collettiva ingiustificata, visto il peso di questa infezione virale. Noi siamo dell'idea che questi provvedimenti debbano essere concertati e decisi a livello nazionale, non è possibile che ogni regione vada per conto proprio, anche perché ne va dell'immagine internazionale del nostro paese. I risultati saranno alla fine di questa vicenda, di una crisi economica notevolissima, che avrà in primo piano il mondo del turismo. Com Commercio interviene anche sulla questione degli aiuti di Stato, previsti al momento solo per le zone rosse, e lancia le proprie proposte a sostegno dell'intero settore. Sarebbe bene che le autorità incominciassero a pensare, provvedimenti seri per tutto il paese. Noi ne abbiamo elencati alcuni, la sospensione del pagamento a delle tasse, la sospensione delle rate dei mutui, l'avvio di una procedura per la cassa integrazione inderoga per le piccole imprese, un'indenità per i lavoratori autonomi, e anche un rilancio, quando finirà questa triste vicenda, un rilancio delle attività promozionali, perché l'Italia torni ad essere nel mondo, e la regione Marche torni ad essere nel mondo, il paese da visitare, altrimenti veramente alla fine dell'anno conteremo solamente dei decessi, nelle imprese però. E c'è da registrare anche la sospensione di tutte le attività teatrali, sino al 4 marzo compreso, secondo un comunicato dell'AMAT. Andiamo alle altre notizie di cronaca. Perde il controllo della sua utilitaria, che sbanda e si schianta contro un albero. L'incidente è avvenuto verso la mezzanotte scorsa, incontrata Fonte Abaceto di Ripatranzone, è costato la vita ad un 38enne operaio della zona, Luigi Vagnoni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto. Quando l'uomo è stato estratto dall'abitacolo della vettura, le sue condizioni erano già disperate ed è poi deceduto l'assalma a disposizione dell'autorità giudiziaria. Aveva 6 grammi di cocaina negli slip e un etto di marijuana nella ruota di scorta posizionata nel bagagliaio della macchina. Così i carabinieri di Urbino hanno arrestato un 31enne italiano ed incensurato fermato all'interno di un bar di Trasanni. Nella successiva perquisizione domiciliare è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione ed ulteriore modiche quantità di stupefacente. Episodio per certi aspetti curioso. Stanotte ad Ancona, gli agenti delle volanti della questura hanno fermato il conducente di 38 anni di un'auto che procedeva zigzagando in via Macerata. L'uomo al volante è risultato essere completamente ubriaco, tanto da non riuscire a smettere di ridere alle domande che gli venivano rivolte dai poliziotti ed anche al momento della misurazione dell'etilometro. Il suo umore però è cambiato completamente quando è stato costretto a consegnare la patente di guida e l'auto non di sua proprietà. Controlli a tappeto della Guardia di Finanza sui saldi ingannevoli e non solo. I dettagli in questo servizio. Controlli a tappeto da parte della Guardia di Finanza di Ancona tutela dei cittadini in concomitanza con la stagione dei saldi quando normalmente aumenta la propensione al consumo. Diverse le categorie merceologiche rilevate con 23 violazioni che prevedono sanzioni amministrative sino a 3.000 euro. Tra queste, in un'attività al dettaglio di Camerano all'interno di un centro commerciale all'inizio dei saldi, venivano apposti i prezzi ben più alti di quelli reali applicando poi uno sconto che in realtà era inesistente. A Senigalli invece è stata riscontrata una violazione all'apposita legge regionale in materia di vendite promozionali in quanto la relativa pubblicità era stata presentata in modo ingannevole. 18 violazioni sono state poi riscontrate in merito all'emissione di scontrini mentre nel settore del lavoro scoperto un lavoratore in nero e tre irregolari. Infine in quattro negozi, di cui tre a Iesi ed una a Senigallia, i finanzieri hanno sequestrato 507 articoli di materiale elettrico poiché privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla marcatura CE. E non c'è soltanto l'allarme coronavirus nella nostra regione. Il transito di alcuni sistemi perturbati continueranno a determinare una ventilazione sostenuta ed un rinforzo del moto ondoso anche sulle marche. La protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo valida per l'intera giornata di domani, giovedì 27 febbraio. Nelle prime ore della notte sono previsti ancora venti da nord-ovest con raffiche fino a Burrasca, lungo le coste. Dal tardo pomeriggio è previsto un nuovo rinforzo dei venti da sud-ovest con raffiche fino a tempesta violenta nelle zone interne e fino a Burrascaforte, lungo la costa adriatica. Inoltre, nelle prime ore della giornata di domani, il mare sarà agitato lungo tutto il litorale con possibili mareggiate. Dotare ciascuno dei 167 istituti scolastici del territorio d'ambito, che comprende 43 comuni, di un erogatore di rete idrica per incentivare tra i 9.000 studenti complessivi il consumo dell'acqua potabile della nostra rete e contribuire in maniera determinante ad abbattere la quantità di bottiglie e bicchieri in plastica useggetta utilizzate a scuola, rendendo tali luoghi plastic-free area. Ecco in sintesi il cuore del progetto Acqua Libera Tutti, presentato da Viva Servizi S.p.a. Atarifiuti e Atomarche 2 Centro Ancona, che congiuntamente ed in maniera coordinata hanno deciso di investire risorse ed energie in un progetto comune, ambizioso e di immediata efficacia. Ed ora parliamo di un interessantissimo servizio che prendere il via nei prossimi giorni ad Ancona. Presentato in Regione Sanibus, il nuovo servizio sperimentale di trasporto pubblico dedicato ai cittadini che devono recarsi al poliambulatorio Asur di Viale della Vittoria ad Ancona. Grazie a questa bella novità, a partire dal 2 marzo e per 4 mesi in via sperimentale, i cittadini di Ancona potranno raggiungere in modo agevole il poliambulatorio, anche in funzione del vincolo del bonus malus della prenotazione CUP, con un percorso breve, evitando problemi di traffico e di parcheggio. Il Sanibus giungerà a destinazione esattamente davanti all'ingresso del poliambulatorio. Per accedere al trasporto occorre prenotarsi direttamente al call center di Conero Bus Service. Il biglietto del costo di 1,50 euro per la singola corsa si acquista direttamente a bordo. Noi siamo vicini agli utenti, quindi gli utenti per i loro bisogni. Bisogna studiare quali sono i loro bisogni e dare i servizi conseguenti. In questo caso non stiamo parlando di un servizio di TPL, di trasporto pubblico locale, per cui abbiamo messo in gioco la nostra società di servizi che è la Conero Bus Service, ha ideato questo nuovo servizio insieme all'Asur. L'abbiamo proposto al comune di Ancona, l'abbiamo proposto in regione, dove sono stati entusiasti e quindi oggi siamo qua. Finalmente il 2 marzo si parte. In qualche modo sostenibile per dare assistenza a persone in cui in qualche modo si possano trovare in una situazione di maggiore fragilità. Decisamente sì, perché con 1,50 euro hanno un percorso dedicato a loro, un autobus dedicato a loro. Possono salire solo loro, quindi coloro che hanno la prenotazione per fare gli esami possono salire su questo autobus, hanno l'assistenza al loro interno per tutte le informazioni possibili, troveranno anche il servizio per ritornare a casa. Per cui andate e ritorno. E siamo ora allo sport. L'Ascoli Calcio procederà col rimborso integrale dei biglietti compresa la prevendita di Ascoli Cremonese, che sabato scorso, come ricorderete, non si è disputata, data l'incertezza sul come e quando si disputerà il recupero della gara, la società preferisce rimborsare tutti. Le modalità verranno rese note a breve. Ed ora passiamo al podismo con il Cross degli Olivi che si è corso domenica scorsa a Porto Potenza Picena. Mario Giannini. Il Cross su questo percorso è un vero spettacolo. Così mi ha detto Antonio Brutti, presente a Porto Potenza con alcuni atleti dell'Asa. Bella giornata, clima primaverile, percorso di gara perfetto, messo a disposizione dalla regione Campania e dall'azienda agricola Duet, preparato con cura dagli amici dell'Atletica Potenza Picena con un grande lavoro di Paolo Massaccesi. Si parte alle ore 9.30 con la gara femminile sulla distanza dei 3 chilometri e Simona Santini, che da quest'anno veste i colori, l'Atletica Toriosico, prende subito il largo e completa il percorso in 11 primi e 32 secondi e precede Lucia Burini di 60 secondi e Monia Montori, l'Atletica Urbana. 35, le atlete giunte al traguardo. La seconda gara, riservata alle assolute femmine e dagli over 60 maschi, sulla distanza dei 4 chilometri, si apre con un gruppetto che prende il comando con Micucci, Burchiani, Santori, quelle ragazze Melatini e Faggiori, che tengono bene il ritmo. Al secondo giro Fabiano Micucci, atleta di casa, prende il largo che aumenta fino a 22 secondi su Burchiani e Michela Malatini dell'Avis Macerata. Mario Santori è terzo al traguardo e precede Alessiani, Veronica Faggiori, allieva dell'Ama di Civitanova. Alle ore 10 e 25, come previsto dall'orario, il via per i master M50 e M55. Da registrare il netto successo di la scia alla boot, della polisportiva Agri Macerata, che sui 6 chilometri impiega il tempo di 22 e i primi e 37 secondi. Dopo 25 secondi arriva Giuseppe Localzo, rappresentante dell'Atletica Potenza Vicena. Al terzo posto, Simone Pierfederici, di Senigaglia. Tutti e tre i primi atleti sono della categoria M50. Per la categoria M55, la lotta si ristringe su Hermes Marilungo, del Porto San Giorgio Runners, e Doriano Bianchi, dell'Atletica Amatori Osimo, che giungono nell'ordine. La quarta ed ultima gara, sempre sui 6 chilometri, non riserva sorprese per la vittoria, visto che Dario Santoro se ne va al colpo di pistola, mentre si lotta per le piazze d'onore, con Falasca, Zamponi e Giovanni Moretti, che si controllano a vicenda. Moretti cerca di tenere alto il ritmo, ma Andrea non molla e nel finale precede l'avversario di 7 secondi. La classifica vede al primo e secondo posto gli atleti del presidente Leandrini, con il terzo posto di Giovanni Moretti, del gruttini team Recanati, poi subito dietro Monti e Pelusi, della Stamurancù. Per quanto riguarda la Serie D di calcio, si va verso il rinvio dei tre derby in programma nella nostra regione, ossia Iesina-Porto-Sant'Elpidio, Tolentino-Recanatese e San Giustese-Monte Giorgio, pur mancando in questo momento il comunicato ufficiale. Giocherebbe a quel punto soltanto il Matelica di Sernia contro il Vasto Girardi, ed in effetti la società biancorossa si è già mossa per organizzare la trasferta. Al momento attuale si disputerebbero nel Girone F soltanto le partite di Notaresco, Fiuggi, Avezzano, Campobasso e Chieti. E vediamo ora le previsioni meteo per giovedì 27 febbraio. Amici Trebimeteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo aggiornamento delle previsioni per la giornata di giovedì. L'alta pressione continua a stazionare sulla penisola iberica, lasciando campo libero sull'Italia all'ingresso di perturbazioni atlantiche. Dopo quella che ha interessato nella giornata di mercoledì il nostro paese, proprio giovedì arriverà una seconda perturbazione che interesserà in particolar modo le regioni del versante tirrenico. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio la nuvolosità attesa sul nostro paese nella giornata di giovedì. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque con residui addensamenti solamente all'estremo sud. Da notare poi nel corso del pomeriggio in serata l'aumento della nuvolosità che interesserà le regioni del nord e quelle del versante tirrenico. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio la previsione per la giornata di giovedì. Dopo un avvio di giornata con cieli sereni o poco nuvolosi fatta eccezione per qualche piovasco che insisterà ancora all'estremo sud. La tendenza sarà quella a un rapido peggioramento in particolar modo sulle regioni del medio-basso tirreno quindi Toscana, Lazio, Umbria e Campania con ritorno della neve in appennino a partire dai 1000-1300 metri di quota. Al nord cieli molto nuvolosi con residui e nevicate sui settori confinali alpini. Per quanto riguarda le temperature queste sono stazionari oscilleranno tra gli 11-12 gradi al nord punte di 15-16 gradi al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. E chiudiamo con una notizia di atletica leggera di un ulteriore rinvio non si terrà l'evento tricolore in programma da venerdì a domenica 1 marzo al Pala Indoor del capoluogo marchigiano. In considerazione proprio dell'attuale situazione legata al coronavirus la FIDAL ha annullato quindi i campionati italiani Master Indoor in programma ad Ancona nel prossimo fine settimana campionati che sono rinviati a data da destinarsi. È tutto con il nostro telegiornale. Grazie per la cortesa attenzione.